Ragazzi, stiamo andando a scuola, speriamo che arriviamo alle 8 e vediamo se riusciamo ad arrivarci, se no entriamo un po' in ritardo. Intanto sono alle 8-5, c'è un po' di freddo qui a Milano e speriamo di arrivare a scuola. E stamattina ho messo un po' di video di Beppe TV e sono belli i suoi video, mi sono iscritto al suo canale e adesso vediamo se riusciamo ad arrivare a scuola, come ho già detto 3.000 volte. Io che la storia sono in Arena 7 e ho 3 leggendarie, le cose delle 3 leggendarie sono la seconda di caccia, la principessa e il drago infernale, ragazzi. Allora, la principessa l'ho trovata nel bullo maggio e vi devo dire che non mi dispiace, perché non mi dispiace. Il drago infernale nel bullo leggendario e poi ho vinto lo seconda di caccia nel bullo supermagico. E adesso siamo qua in Chiesa Rossa, in Chiesa Rossa e adesso andiamo a scuola e entreremo, arriveremo un po' tardi, ma io sono uscito di casa meno un quarto, perché ho bevuto il latte e... Ok, allora, volevo dire, visto che oggi andiamo a scuola, quando uscirò da scuola e arrivo a casa, farò un nuovo video e farò Clash Royale, va bene? Farò tre battaglie e in queste tre battaglie vi farò vedere quante partite vinco. Quindi se ne vinco tutte e tre, bene. Se ne perdo una c'è una penitenza e la penitenza la decide il mio fratello, che il mio fratello è un po' manuto con le penitenze. E quindi mi può anche fare una brutta penitenza, tipo mangiare il piccante, che il piccante non lo mangio e non mi piace, o se no anche fare altre cose. E comunque noi adesso stiamo andando a scuola, io vado a scuola al Gemelli, dopo il ponte. Allora, ora stiamo camminando, stiamo andando con un'andatura, guardate le mie Jordan, guardate che belle, oggi sono arti. E oggi sono arti, non so che si vede, io tornando mi passa un camion dell'Amsa, così, ok? Qui sono sui martepiedi. E questo qua sono le finestre di Chiesa Rossa, guardate. Ok, allora. Adesso, vabbè ve l'ho già detto, c'è ancora una nuova capegliatura. Allora, ok, siamo quasi arrivati adesso in azione, mancheranno dieci minuti e oggi faremo una cosa. Allora, faremo, prima di entrare a scuola, io dovrei fermarmi davanti a scuola, perché devo controllare cosa c'è dentro la cartelletta. Perché se c'ho le cose giuste, bene, non mi dispiace. Però, adesso controlliamo. Quando arriviamo a scuola. Scusate un attimo che stoppe un attimo il video, metto a posto le cuffie. Scusate un attimo. Ok ragazzi, ecco mi sono tornato. E siamo ancora dietro Chiesa Rossa. Qua c'è tutto un euro. Guardate, è romania. Quella è solo una scuola. Mi sa che siamo un po' in ritardo? No. Sono alle otto, sì vabbè. Sì, un po' di ritardo sì, perché io entro tutte le otto a scuola, quindi vediamo. E vabbè. Wow. Wow. Ok ragazzi. Che stanchezza, tutto il mattino è mezz'ora di casa. Beh non sempre mezz'ora, perché se vado a questa natura ci metto anche meno di mezz'ora, avete anche visto. Avete visto anche voi, no? Infatti sono alle otto, sono uscito di casa alle... Ho iniziato il video meno un quarto, così. In un quarto d'ora, però manca ancora un po', sto 20 minuti, così arrivo a scuola. Quindi se uscirei anche meno 20 di casa, ce la posso fare. Ok ragazzi. Cosa dire? E adesso aspettiamo che arrivo davanti a scuola. E oggi ho portato a scuola come merenda. Un pacco di schiacciottini, un pacco di cracker e forse il succo alla fresca. E allora, scusate, alla pera. So che a voi non me ne frega niente di quello che porto, ma io lo dico. Ok. Gli intervalli in questa scuola sono molto belli, però c'è un po' troppo casino. E quindi mi debbomba sempre la testa, non si capisce mai niente. E non so. E vabbè. Niente, è bella questa scuola. L'anno scorso sono stato bocciato perché non andavo mai a scuola, non avevo mai voglio. E quindi mi hanno bocciato. Ho fatto 44, 300 su 40. E me l'ho bocciato. E quindi adesso... Ehm... Niente. Vediamo se ce la facciamo. Adesso so, prima ora, matematica. Seconda ora, geometria. Testa ora, scienze. Quarta, storia. E quinta e sesta, arte. Due ore di arte. Ok. Oggi conosciamo da scuola. Verso... Perché io esco da scuola alle 2-10. Poi io, quando arrivo a casa, per le 3 così... No. No, no, no. Cioè, sì. Per le 2 e mezza, quando arrivo a casa, faccio un altro video. E farò il video di Clash Royale. Va bene, ragazzi? Il video di Clash Royale. Mentre farò tre battaglie. Come già vi ho detto stamattina. Ok. Allora... Siamo quasi arrivati. Vorrete dove siamo. Ok. Siamo... Sì, siamo quasi arrivati. Là c'è il ponte. Vorrete quel ponte. Semofro rosso. Sempre rosso, sto semaforo. E sono vicino al Lidl. Ieri ho passato tutto il giorno, tutto il giorno, a guardare i video dei The Show. Perché i The Show mi ispirano? Mi ispirano con i loro scherzi. Con i loro prank da fare. E anche dei video... Quello che dicono, tu che cosa faresti? Quelli mi ispirano. Anche se... Quello che ha fatto Alessio, o D'Alessa... O viceversa, adesso non mi ricordo. Quello quando erano seduti in Sideratelle. Quello non mi è proprio piaciuto. Però lo so che erano scherzi. Ma non c'è di fare neanche per scherzi. Vabbè. Comunque. Noi siamo quasi arrivati. E adesso vediamo. Siamo qua, dove c'è il ponte. Allora. Sono stanchissimo. Sono proprio stanco, ma devo salire gli scalini. Guardate. Allora. Ok. Che stanchezza. Ora scendiamo gli scalini. Scusate se balla un po' la camera. Ok. Siamo quasi vicino alla scuola. Ok. Quindi siamo arrivati, sogni e salvi. Qua c'è l'asilo dei bambini. E qua ci sono io. Ok allora. Allora ragazzi. In tragitto. Avete visto come è un po' lungo. Io non ho tagliato il video. Per farvi vedere. Adesso quando arriveremo davanti a scuola. Ti farò vedere. Intanto gli suonano come dei pazzi. Alle 8 o 5 di mattina suonano. Così. Il massimo che si può intero è l'8 o un quarto. Quindi io. Anche sono anche salvato. Scusate. Ho proprio un tossone. E vabbè. Ok. Peccato perché. A me. Mi si è rotta la bici. E quindi. Non posso prendere la scuola in bici. Comunque oggi perché non lo so. Piaggiavo di. 17 novembre. Ok. Siamo quasi arrivati a scuola. E mi lascio il panificio. Lascio il bar. Ok. E questa è la mia scuola. Guardate. Guardate com'era la mia scuola. Ok. Questa è l'incazione dell'asilo dei bambini. E mi stavano andando. Allora. Uff. Oh mamma mia. Corsa una macina di lavoro e scuola. Perché. Puliscono il giardino. E domani abbiamo un motorio. E mi sa che andiamo a fare la corsa fuori. Lui l'altro giorno ho fatto 9 minuti e mezzo di corsa. Tutto e di fila senza mai fermarmi. Ma stavo morendo. Stavo schiattando terra. Non l'avevo mai fatto. Ok ragazzi. Siamo all'entrata della scuola. Adesso zitti zitti. Finiamo il nostro video. Un gran saluto. Mi stava prendendo anche il telefono. Ok. E da qui. Siamo arrivati a scuola. Guardate. E da qui ragazzi. Io vi saluto. Vi do un gran abbraccio. E si risalzi gente. Grazie a tutti